Le indagini sono in corso e negli scorsi mesi la procura ha chiesto una proroga ottenendola. Sarebbe stato individuato infatti un presunto giro di droga favorito da rapporti tra gelesi e grossisti catanesi. Almeno questo sembra emergere. Allo Stato sono quattro gli indagati, tutti con precedenti anche per reati di droga. L'attenzione degli investigatori coordinati dai PM della procura locale si è concentrata sui fratelli Antonino Raitano e Ruben Raitano e su Giacomo Tuminelli. Sarebbero loro i gelesi in grado di tenere contatti con fornitori di altre zone dell'isola, soprattutto nell'area catanese. L'altro indagato infatti è Nicolo Zagame, a sua volta già coinvolto in inchieste antidroga condotte dagli inquirenti etnei. La proroga delle indagini serve probabilmente ad acquisire ulteriori elementi. Quello del mercato della droga è uno dei canali investigativi più volte accesi dalla procura locale che negli ultimi anni ha individuato spacciatori ma anche fornitori. La città si è spesso confermata un punto importante anche per l'approvvigionamento di sostanze stupefacenti. Ci sono state anche diverse condanne. La posizione dei quattro invece al baglio degli investigatori, sia il presunto contatto catanese che tra i gelesi sono stati toccati da altre indagini anche rispetto allo spaccio di droga. Le verifiche sono comunque in corso condotte proprio dagli investigatori locali.